Dietro ogni abito fatto su misura c'è una storia. La tua storia. Chi è alla ricerca di un modello unico dal taglio esclusivo che esprima personalità ed eleganza lo trova a Milano in via Marco da Gratte 41 da Camiceria Lenco. Dal 1940, infatti, la Camiceria Lenco è specializzata nella produzione e la vendita di camice e abbigliamento per uomo e donna. Dal laboratorio alla vendita, tutta la qualità dei prodotti artigianali made in Italy a prezzo di fabbrica. Camiceria Lenco mette idee e qualità per proporre a tutti gli amici di sconti in TV un'offerta di stile unica. Abito e camicia realizzati su misura e personalizzati a 490 euro anziché 1200 euro. E in più, tutte le camicie artigianali sono scontate del 30% a solo 33 euro l'una. Chiama subito allo 02 53 92 503 o passa direttamente in laboratorio. Parcheggio privato interno. Camiceria Lenco. Il tuo abito. Come una seconda pelle. Camiceria Lenco. Camiceria Lenco. Tgomento. Ev немного. Cam beneficio. Grazie a tutti.